Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Lorenzo Cozzarini e nel video di oggi vi voglio portare a visitare un altro posto davvero davvero molto bello del Friuli Venezia Giulia. Il posto che vi voglio far vedere e visitare dagli occhi speciali del drone sono le cascate di Crozis. Siete pronti? Andiamo! Grazie a tutti! 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 Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!